siamo adesso la splendida cattedrale di santa maria la nova affrescata dal borreman nel 1720 in una delle cappelle di questa di questo tempio si trova questa tela di vincenzo rogeri vincenzo rogeri pittore in il seno del seicento rimasto obbligato per secoli riscoperto nella seconda metà del novecento vi sono presenti altre tele sue tele in questa cattedrale in altre chiese della città in altre località della sicilia centro rogeri lascia in questa cattedrale questa raffigurazione della sacra famiglia inusuale perché vi convaino anche sant'anno e san giochino i nonni di gesù di solito non compaiono nelle raffigurazioni della sacra famiglia questa tela di rogeri inoltre vediamo che molto tra l'altro bello troviamo parte questo angelo che dona un gesto di frutta sant'anna con in mano delle ciliegie gioca con il bambinello un'immagine veramente molto tenera molto commovente andò nessun giochino come dicevamo non compaiono spesso nelle natività nella rappresentazione dell'attività o della sacra famiglia ma calcanistetta invece sono diverse di opere in cui c'è la loro presenza non solo per mano del rogeri rogeri esistono comunque degli studi sono stati effettuati degli studi molto importanti dopo la sua riscoperta avvenuta in tempi relativamente recenti detenti 2 2 3 3 2